Prosegue il corso dedicato ad Adobe After Effects, il software di casa Adobe per creare animazioni, effetti speciali, grafica animata e quant'altro, tutto quello che può partorire la vostra fantasia. Nel scorso video tutorial abbiamo parlato dei fotogrammi chiave, abbiamo visto cosa sono, perché sono così importanti nelle animazioni e il ruolo chiave appunto che giocano quando vogliamo muovere oggetti o in qualche modo creare l'effetto dell'animazione, di quello stiamo parlando del resto. Vi ricordo www.fabioambrosi.it, sito dove trovare gli articoli di queste lezioni, oltre all'indice con tutti gli argomenti del corso, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere anche i prossimi video tutorial. Se vi fa piacere venite a cercarmi anche su Facebook, la pagina da cercare, da cliccare, è Fabio Ambrosi. Mettete un like e lì ci terremo in contatto, aggiornati con tutte le novità e tutti i nuovi video tutorial e i nuovi corsi che usciranno da qui in avanti. Parliamo oggi delle animazioni, faremo la nostra prima animazione con After Effects, utilizzando proprio il concetto che abbiamo visto nella scorsa lezione, nello scorso video tutorial, ovvero il concetto dei fotogrammi chiave. Allora, io elimino tutto, cancello, puliamo tutto quanto, elimino, guarda, partiamo da zero, via, così vi mostro proprio come si parte dall'inizio, così che tutti possono seguire passo passo quello che sto facendo. Apriamo After Effects e ci troviamo di fronte a questa schermata. La prima cosa da fare, lo abbiamo visto negli scorsi tutorial, è importare un oggetto. Quindi doppio clic nel pannello progetto, andiamo a selezionare l'oggetto che noi vogliamo importare. In questo caso io ho trovato un PNG rappresentante un pallone, ok? Doppio clic, lo importo e ho creato, ho importato il mio primo elemento in After Effects. Bene, creo la prima composizione, perché chiaramente, come abbiamo detto nella lezione sulle composizioni, in After Effects tutto deve andare dentro la composizione. Clicco nella composizione, nomino la composizione come voglio, animazione, sfera, non è importante il nome, è una convenzione. L'importante è che voi siate chiari con voi stessi, cercate un vostro ordine e seguitelo. Questo è molto importante quando lavoriamo a progetti grafici anche più complessi, animazione per esempio. Oh, è inutile lavorare con risoluzioni troppo elevate, un 1280x720 per fare dei test va più che bene. Quando sarete bravi e lavorerete con risoluzioni maggiori o minori, a seconda di quello che dovete fare. Lasciate tutto invariato, la base temporale è a 60 fotogrammi al secondo, vogliamo fare 25 è uguale, per quello che serve a noi in questo tutorial potete scegliere quello che volete. 25 fotogrammi al secondo, 10 secondi vanno benissimo, clicco su ok. Ho creato la composizione, trascino il mio oggetto dentro la composizione ed eccoci qua. Ho importato, o meglio, ho inserito il mio oggetto multimediale, l'immagine del pallone, nella mia composizione. Oh, è un po' grande questo pallone, quindi scaliamolo, tasto S, lo abbiamo visto negli scorsi tutorial, spostiamolo sulla sinistra. Bene, cominciamo da qui. Come si crea un'animazione? Allora, la prima cosa da fare è decidere dove deve iniziare l'animazione. Quindi, decidiamo, che ne so, vogliamo iniziare qui, in questo momento temporale, al frame 25, quindi esattamente in corrispondenza del primo secondo. Mi sembra un buon inizio. Posizioniamo il cursore temporale qui, premiamo il tasto P sulla tastiera, se non l'abbiamo già fatto, per mostrare la proprietà posizione, anche di questo abbiamo già parlato in un tutorial precedente, e posizioniamo ora il pallone dove vogliamo. Ok? È la posizione di partenza. Ora, invece di fare un'animazione orizzontale, facciamo una cosa di più carino. Posizioniamolo in alto a sinistra, ok? Oh, a questo punto inizia la magia. Dobbiamo inserire il fotogramma chiave, ovvero dobbiamo dire l'after effect. E after, il mio pallone, al frame 25, deve trovarsi in questa posizione. Fantastico. Come si accende un keyframe? Come si inserisce un keyframe? È semplicissimo. Vedete qui, vicino alla parola posizione, ma vale per qualunque proprietà in after effect, trovate un cronometro, uno stopwatch in inglese. Cliccate su questo cronometro e vedrete che automaticamente, senza fare nient'altro, after effect inserisce il nostro primo fotogramma chiave, questo diamantino, in corrispondenza del frame 25. Oh, vi dicevo, questo vale per tutte le proprietà di after effect. Facciamo un esempio, premo il tasto S e vediamo la scala, la scala anche all'orologino, quindi possiamo inserire anche un fotogramma chiave per la scala. Tasto R, la rotazione, anche la rotazione. Vabbè, avete capito insomma il senso, sono utile che facciamo proprietà per proprietà, però in after effect ogni proprietà che ha il cronometro presente, vuol dire che quella proprietà può essere animata. Torniamo alla posizione, perfetto. Abbiamo il primo fotogramma chiave, vedete che il cronometro è acceso, evidenziato di azzurro. Quello che dobbiamo fare adesso è posizionarci nel secondo momento temporale, vale a dire, In questo momento il pallone sta qui. Bene, andiamo avanti, andiamo al secondo 2 della nostra timeline. Posso anche cliccare qui e scrivere 2, premere Enter. Vedete che il mio cursore si posiziona già sul secondo, secondo, della mia linea temporale. Io quello che devo fare adesso per inserire un secondo fotogramma chiave è molto semplice. Devo spostare questo oggetto. Muovo questo oggetto. Vedete che mentre lo muovo viene già creata una linea, e non è una linea che comparirà durante l'animazione, è solo un riferimento grafico che serve a voi per capire la direzione dell'animazione che state creando. Posizione del pallone in basso a destra, per esempio. Potete fare così, cliccando sopra il pallone, o potete anche giocare con i valori qui, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti. È uguale, sta a voi. Una volta che avete scelto dove deve stare il pallone in questo momento temporale, rilasciate il mouse e vedete che immediatamente After Effects ha inserito un secondo fotogramma chiave, senza dover premere nessun tasto. Lo stopwatch è acceso, quindi è in modalità, chiamiamola così, registrazione, anche se è improprio questo termine. Però per capirci può andar bene. Il secondo fotogramma è stato aggiunto, ne abbiamo conferma da questo secondo diamantino, e basta. La nostra prima animazione in After Effects è fatta. Prova ne è che se io torno indietro, premo la barra spaziatrice, dopo aver selezionato la timeline, mi raccomando, se vi trovate qui, non funziona. Dovete selezionare la timeline, premere la barra spaziatrice, e vedrete che il nostro pallone si muoverà dalla posizione iniziale alla posizione finale, secondo come abbiamo indicato noi nei keyframe. Le posizioni intermedie After Effects le calcola in automatico. Vogliamo continuare a muovere questo pallone? Andiamo ancora avanti. Vogliamo mettere questo pallone al centro? Possiamo farlo. After ha già creato il terzo keyframe, quindi la nostra animazione così sarà composta. Il pallone parte, va lì, rimbalza e va al centro. Questo vale per la posizione, ma come vi dicevo prima, vale per qualunque fotogramma chiave. Facciamo un esempio, tanto per vedere così come funziona praticamente quello che sto dicendo. Posizioniamoci su un altro momento temporale a caso, va bene? Premo il tasto S e modifico la scala di questo pallone. Lo rimpicciolisco, lo faccio piccolo, 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 piccolo. Non andate in negativo, altrimenti quello che fate è sostanzialmente ribaltare il pallone, ma lo vedremo magari più avanti in un altro tutorial. Fate il pallone piccolo, piccolo, andiamo avanti, posizioniamoci, per esempio, qui, quando il pallone si trova al centro del nostro fotogramma, più o meno, ingrandiamo il nostro pallone modificando la scala, ma vedete che non è successo nulla. perché non ho attivato il cronometro, quindi ricominciamo da capo, posizioniamoci qui, modifichiamo la scala, accendiamo questa volta il cronometro, ecco che After Effects ha inserito il primo fotogramma chiave, quando ci troviamo più o meno al centro del nostro frame, ingrandiamo la nostra sfera modificando nella scala, vedete che già è stato inserito il secondo fotogramma chiave, quando il pallone si trova qui in basso a destra, rimpiccioliamolo nuovamente, e quando si ritrova al centro, ingrandiamolo ancora. Vedete che sono stati automaticamente aggiunti i keyframe necessari per l'animazione, quindi vediamo cosa è successo, siamo un po' curiosi, anche io sono un po' curioso in realtà, premiamo la barra spaziatrice, ed ecco quello che è accaduto, ora non è elegantissimo, andrebbe sistemato, perché chiaramente il pallone si ingrandisce tanto prima ancora di partire, beh possiamo muoverli i keyframe, se non siamo soddisfatti, vogliamo far partire l'animazione qui, quando inizia a muoversi il pallone, bene clicchiamo sopra il keyframe, lo spostiamo un pochettino in avanti, e l'animazione inizierà qui, quindi vediamo quello che è successo adesso, olè, molto meglio, ok? ecco questa è la vostra prima animazione, i keyframe possono essere mossi, ovviamente meno spazio c'è tra un keyframe e l'altro, più veloce sarà la vostra animazione, più spazio intercorre tra un keyframe e l'altro, più l'animazione sarà lenta. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questa lezione sull'animazione in After Effects, ve lo avevo detto, è solo un'introduzione, sono molte le cose che possiamo fare con After Effects, ma questi sono concetti base, perché poi del resto in After Effects tutto si basa, o meglio tutto, gran parte del lavoro, parte del lavoro, si basa su questo, sull'animazione dei keyframe, animare le varie proprietà, possiamo animare il colore, i tanti effetti che esistono in After Effects, vedremo come sarà bello giocare, le maschere, parleremo presto delle maschere fondamentali in After Effects, possiamo animare praticamente quasi tutto in After Effects, questa è una lezione importante, quindi cercate di apprendere questi concetti molto semplici, ma fondamentali per lavorare in After Effects, nel prossimo video tutorial, se non ricordo male, dalla playlist che ho scritto, che per questo corso dovremo parlare delle maschere, concetto anche questo molto importante, che meriterà forse più di una lezione, mi fermo qui, www.fabioambrosi.it, sito internet, con l'indice degli argomenti di questo corso, con gli articoli di questo corso, e con il corso anche di Adobe Premiere Pro, se volete imparare ad utilizzare quel bellissimo software per l'editing video, iscrivetevi a questo canale YouTube, per non perdere anche i prossimi video tutorial, nei prossimi mesi faremo anche qualche lezione live, così che chi vuole fare domande può farlo in diretta praticamente, se vi fa piacere, volete restare aggiornati, cercatemi su Facebook, la pagina da cliccare, come sempre, è Fabio Ambrosi, mettete un like, e teniamoci in contatto, grazie, 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 commentate questi video se avete domande, cercherò di rispondere per quanto possibile, se volete aggiungere qualcosa, perché ne sapete più di me, scrivete tranquillamente, tutti possiamo trarre beneficio dalla condivisione delle informazioni, per il momento vi ringrazio ancora, buon proseguimento, ciao. Ciao.